Insomma, tanto entusiasmo Mario anche per questa partita, vedremo insomma come andrà a finire, ve lo racconteremo naturalmente su Telesveva Sport. Scendiamo ancora di categoria Mario, andiamo in Serie D, ci proiettiamo verso la prossima stagione parlando di Bitonto e il futuro del Bitonto. Ne parliamo con il presidente del club Nero Verde, Antonello Orlino, che è in collegamento video con noi e il giorno delle tante dirette. Ciao Antonello, ben ritrovato, buon pomeriggio. Ciao Mario, grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, siamo ad un mese dallo stop della stagione agonistica, avete raggiunto una salvezza con abbondante anticipo nel scorso girone H del campionato di Serie D. Parto subito da due opzioni, non è stato semplice raccogliere delle informazioni, da quello che ci risulta per quanto riguarda il futuro del Bitonto ci sono due strade. Allora, una relativa a una cordata di imprenditori locali, l'altra invece fa riferimento, o meglio usiamo il condizionale, farebbe riferimento, poi ci darei tu l'eventuale conferma, ad un bitontino che vive in Sud America, se non ho capito male, in Venezuela. Venezuela è interessato a coesire il Bitonto. C'è qualcosa di vero in tutta questa storia, Antonello? Sì, diciamo che qualcosa di vero c'è. Stiamo lavorando ovviamente affinché si possa presentare un progetto, un percorso per l'anno prossimo. E quindi ovviamente stiamo valutando tutte le ipotesi. Al momento ci sono stati dei dialoghi con alcuni imprenditori che si sono affacciati per prendere in mano questa situazione. Tra questi c'è stato anche appunto questo Bitontino che ormai non vive più a Bitonto ma che è rimasto affezionato e legato alla nostra terra e al quale alcuni tifosi hanno chiesto supporto e con il quale io sto dialogando. Ovviamente però è una questione lunga, capisco bene che parliamo di cifre importanti e anche dialogare con il fuso orario di mezzo non è facile. Quindi io sono abbastanza fiducioso nel senso che comunque qualche interessamento c'è, un supporto di qualche imprenditore l'ho già avuto. Quindi diciamo che 10-15 giorni per fare un attimo il punto della situazione dovremmo avere le idee più chiare. Pista A, pista B, ma i tifosi del Bitonto possono stare comunque tranquilli? Esiste tra virgolette, lo chiamiamo un piano C nel senso che voi comunque garantite l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D? Allora io sono su questa cosa il piano C diciamo e il sindaco nel senso che io sto informando puntualmente il sindaco di tutte queste trattative, di ogni mio dialogo. Ovviamente io ho informato che nel momento in cui tutte queste piste non dovessero andare in porto ovviamente io avrò bisogno del suo supporto per garantire l'iscrizione al campionato e per partire, per programmare la stagione. Ma al momento io sono abbastanza fiducioso e quindi non dovremmo avere, non dovremmo uso il condizionale perché poi alla fine finché non abbiamo nero su bianco però siamo all'8 giugno. Capisco che i tempi sono un po' ristretti però non dovendo per fortuna o per sfortuna, non dovendo programmare una stagione per lottare al vertice, per vincere il campionato, quindi abbiamo forse 10-15 giorni di tempo in più rispetto a chi programmerà una stagione di vertice. Il Bitonto vorrebbe ripartire da Valeriano Loseto in panchina a Valeriano Loseto, lo sappiamo, non dispiacerebbe ricominciare dalla guida del Bitonto. Vi siete sentiti? Valeriano Loseto aspetta gli sviluppi societari? Io Valeriano lo sento quasi ogni giorno perché comunque al di là dell'aspetto sportivo c'è un rapporto di amicizia, c'è anche un rapporto voglio dire è bello, è una bella persona e mi confronto spesso anche diciamo per questioni extra calcistiche. Ovviamente qualora io dovessi portare avanti questo discorso è normale che la mia prima opzione sarebbe Valeriano Loseto, alla fine parliamo di un allenatore al quale negli ultimi anni ogni progetto affidato è stato portato con successo, gli è stato dato un compito e lui lo ha realizzato. Quindi io scherzando gli dico ti lascio andare solo se ti danno una panchina per vincere il campionato perché se devi venire a lottare contro di me allora no, resta con me. Io penso che lui nel momento della carriera in cui si merita un progetto vincente, si merita una squadra per misurarsi ai vertici della classifica. Però mi dispiace per lui ma sono contento che nessuno lo ha cercato per dargli questa possibilità. Non sto scherzando ovviamente, purtroppo sappiamo bene che nel calcio non sempre si guardano anche i meriti sportivi. L'ultima sul capitolo stadio, ci fai il punto della situazione sui lavori Antonello della Città degli Olivi? I lavori proseguono e stanno procedendo con l'allargamento del campo, con lo spostamento delle panchine, con la base per la curva e con l'impiantistica per gli spogliatoi. Ovviamente anche lì sappiamo che comunque la prima parte di stagione sarà da giocare fuori, quindi non contiamo sullo stadio prima del 2024. Anche perché qualora dovessero consegnare i lavori per novembre comunque sarebbe a campionato in corso. Quindi sicuramente se tutto va bene bisognerà sfruttare la pausa invernale per spostarsi di impianto. Ad eccezione di far agosto noi saremo qui tutti i giorni e quindi magari ti aspettiamo per aggiornamenti sul futuro del Bitonto. Grazie per il momento al presidente del club neroverde Antonello Orlino. Buon proseguimento di giornata. Ciao Antonello. Grazie Mario. Spero di darti buone notizie prima possibile. Ti aspettiamo. Ciao, buon lavoro.